Signori bentornati in questo nuovissimo video buona domenica andiamo a vedere insieme finalmente dopo l'Ubisoft Forward di ieri sera Vediamo insieme i 7 paesi in cui avremo la close beta di Rainbow Six Mobile Il giorno ma soprattutto il trailer ufficiale nuovo con il gameplay ragazzi del gioco che è tipo una cosa incredibile Ma raga devo anche dirvi subito da adesso che c'è una brutta notizia purtroppo che forse avete già immaginato Ma andiamo raga a vedere intanto questi paesi Diciamo che un po' me lo aspettavo come anche voi ve lo aspettavate anche chi era live con me sull'altra piattaforma ieri più o meno lo sapeva Raga Canada, America, Messico, Brasile, Singapore, Filippine e India avranno la possibilità Sono i paesi in cui avremo la possibilità di giocare, di partecipare il 12 settembre alla close beta di Rainbow Six Mobile L'originale questo vuol dire che chi si è registrato ed è in questi 7 paesi può partecipare ragazzi Se viene scelto ovviamente può partecipare alla close beta del gioco Chi si è registrato ed è in Italia praticamente non verrà scelto ovviamente perché i paesi sono questi Ma ragazzi c'è una piccola notizia comunque positiva è che io sono in Italia come sapete Ma ho scritto su Discord al moderatore, al community manager scusate E gli ho chiesto guarda io sono un content creator mi avete messo anche creator nel Discord ufficiale vostro Mi avete messo youtuber insomma mi fate provare il gioco il 12 settembre in qualche modo Mi date l'accesso e quindi giocarci Ragazzi mi hanno risposto mi fa grazie per tenerci in considerazione Daremo un'occhiata a questa cosa Quindi raga lo spero davvero tanto Praticamente domani signori Non ho mai visto un gioco mobile che tipo annuncia la cosa e tipo due giorni dopo esce bellissimo Domani 12 settembre lunedì ragazzi alcuni saranno fortunati potranno giocarci Ragazzi guardate Che figata Il trailer del gioco signori Quanto è bello Bellissimo ragazzi Non vedo l'ora Guardate che figata ragazzi Questo è un pezzo di gameplay guardate eccolo qui Spettacolare La grafica ovviamente è della beta Hanno annunciato mi sono visto ieri l'Ubisoft Forward Hanno detto che la versione beta ha dei miglioramenti grafici rispetto all'alpha test che vi ho fatto vedere nel video precedente ieri Quindi per la grafica aspettatevi cose fighissime anche quando magari uscirà globale Sarà ancora più bello quindi tanta 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 roba Ed ecco signori i paesi Brasile, Canada, Filippine, Messico, Singapore e India Strano che non ci sia la Malesia Di solito c'è sempre in queste liste ma non c'è Ora ragazzi sul twitter ufficiale vediamo un attimino un po' di dettagli A parte che questo qui ragazzo OverrangeG è il community manager sul discord ufficiale di Rainbow Six e sono in Montreal ok? Se andiamo un attimino qui Ad una certa Omen gli ha chiesto Ma quindi aggiungerete dei nuovi paesi? Vedete? Gli ha scritto C'è una possibilità che presto vengano aggiunti altri paesi? Ragazzi non per la beta sfortunatamente Questo vuol dire che in realtà questa beta raga non ci saranno altri paesi Sono quelli e basta quei 7 E la cosa purtroppo mi miratrista parecchio sinceramente Soprattutto per chi magari voleva giocarci subito già da domani E puntava ad essere scelto con la pre-registrazione Anche se raga sinceramente non mi è piaciuta molto sta cosa che hanno detto Pre-registratevi per la chance di giocare alla close beta Ma in realtà solamente se sei nei 7 paesi Non ha molto senso sta cosa non mi piace O magari dicendomi ok pre-registrati E poi nelle prossime settimane mi fai uscire il gioco in altri paesi Ma non sembra che andrà così Quindi noi comuni mortali raga purtroppo dovremo aspettare Ma c'è una buona probabilità ragazzi Che riesca a portarvi dei gameplay sul mio canale E sul mio canale nell'altra piattaforma E ricordiamoci raga che si parla sempre solo di Android Per il momento non c'è iOS iOS verrà un po' più avanti Non so per quale motivo ma lo sviluppo su Apple Sembra che abbia richiesto più tempo Posso chiedere raga la mia agenzia di mettermi in contatto con Ubisoft Italia E di riguardarti che abbiamo un creator Quindi in realtà domani scriverò subito la mia agenzia Che è Dive Sperando che riescano a connettersi più facilmente A raggiungere insomma in qualche modo il team italiano di Ubisoft E farmi giocare E ripeto anche se c'è stata la copia Area F2 Dalla copia è stato Diciamo che è stato un po' un test Che mi ha fatto capire Che ha fatto capire anche la community in generale Che ama i CQB Che effettivamente Rainbow Six Mobile Quando poi sarebbe uscito poteva funzionare Vi faccio sapere Vi aggiorno raga Vediamo cosa mi dice su Discord se mi risponde Vi ho lasciato tutti i miei social Tutto quanto Raga Tra il canale e Loot Plus Che è tipo super visitato Penso che anche per questioni di marketing Possano accettare la mia richiesta Di andare a fargli pubblicità al gioco Anche perché sono l'unico su YouTube Italia Che parla di Rainbow Six Mobile Raga vi aggiorno dai Ci vediamo domani con un nuovo video Ciao